Un incidente si è verificato al porto di Napoli quando la nave isola di Procida della compagnia Caremar proveniente da Capri ha urtato le banchine del molo Beverello a causa del vento forte e del mare agitato dovuti al maltempo. Si stima che almeno una trentina di persone siano rimaste ferite principalmente con lesioni lievi classificate come codici gialli e verdi. Non ci sono stati feriti gravi. A bordo della nave c'erano diverse centinaia di passeggeri inclusi numerosi stranieri. Attualmente vari feriti stanno ricevendo assistenza dal servizio medico di emergenza 118 mentre alcuni sono stati trasportati nei vicini ospedali. Al momento dell'impatto molti passeggeri erano in piedi e sono caduti a causa della forza del colpo. La situazione è sotto controllo e le autorità stanno conducendo le indagini per determinare le cause dell'incidente e per garantire la sicurezza delle operazioni portuali future.